vi faccio un altro esempio poi chiudiamo sulla parte che riguarda i rapporti con roma siccome dalla protezione civile dal dipartimento hanno risposto che ci avevano mandato 700.000 mascherine allora amici cari vediamo i capirci bene quelle di cui parla la protezione civile sono queste mascherine le 700.000 in campania sono arrivati 552.000 mascherine queste cose ma ci vuole veramente una fantasia diciamo accesa per definirle mascherine a meno che non si pensi diciamo alle maschere che usano i nostri nipoti al carnevale questa va bene per maschera per banni sapete il coniglietto tutela non me la metto io per non pregiudicare in maniera definitiva quel poco di estetica che le ingiurie del tempo mi hanno lasciato ma se ve la mettete le vostre orecchie escono da queste fessure che avete la faccia di banni il coniglietto ragazzi facciamoci un sorriso anche in momenti difficili ma non le chiamate mascherine per quello che mi riguarda ma è una scelta mia individuale ho scoperto che hanno una grande efficacia per pulire gli occhiali diciamo le lenti sono veramente un prodotto eccezionale ma negli ospedali vi voglio bene vi voglio bene per l'amor di dio lasciamo aperte allora mascherine chirurgiche p2 e p3 concentriamoci su queste e queste cose qui la maschera coniglietto lasciamola perdere e utilizziamola per altri momenti